...che destra e sinistra siano uniti a reggere il governo di un banchiere. Poi devo dire anche che non so quanto cazzo ci voglia per mettere le teste a salivare, vuol dire che stanno mangiando pure sui tamponi. Il popolo si sta muovendo e farà delle grandissime manifestazioni a Roma. Il popolo si deve muovere a prescindere da Roma, le piazze d'Italia devono riempirsi tutte perché abbiamo soltanto quest'arma, quella di far capire che la gente non è stanca. Loro potranno continuamente tentare la loro zampata. La nostra però deve essere una resistenza che si fa vedere in tutte le piazze d'Italia. Non basta la piazza di Roma, ci devono essere tante piazze organizzate da soggetti diversi perché proprio dobbiamo presidiare tantissimo. Quindi il tema non è quello della paternità delle piazze, è il ripristino dello Stato di diritto che viene totalmente calpestato. E quindi stanno consentendo alle case farmaceutiche di fare il massimo del profitto con zero responsabilità. E questa è la logica del banchiere centrale, questa è la logica di uno che è cresciuto in Goldman Sachs e sta governando con la stessa logica. Non c'è popolo, non c'è politica, non c'è democrazia, ma stiamo assistendo ad una schifosa maggioranza che tiene assieme la lega di Salvini, con Salvini che fa i video cercando di paraculare, cercando di recitare tutte le parti in commedia. Salvini non può recitare tutte le parti in commedia perché la Lamorgese è la sua ministra, perché Speranza è il suo ministro, la piantastra di dire cose nei video e poi nel Consiglio dei Ministri i suoi giorgetti e roba varia vota tutto quello che Draghi dice di votare.